Domenica alle 12 sono attesi al campo della Marta. Sarà l'occasione per lanciare la ricandidatura del leghista Luca Pierobon, ma anche per capire le distanze tra i due volti sempre più distanti della Lega. Presentati in grande stile e uno a fianco all'altro, Matteo Salvini e Luca Zaia domenica mattina saranno a Cittadella. Alle 12 il leader e il segretario del Carroccio e il presidente della regione sono attesi al campo della Marta, in via Indipendenza 41. Sarà sicuramente l'occasione per lanciare la ricandidatura del leghista Luca Pierobon, ma magari anche per capire le distanze che ci sono tra i due in materia di vaccini e Green Pass. Sui manifesti sono rappresentati come i due giganti della Lega, ma la realtà è che i due sono sempre più lontani. Da una parte Salvini che strizza continuamente l'occhio ai manifestanti no-vax del sabato pomeriggio, sottolineando il diritto alla loro libertà di espressione e mettendo disordine nel governo in materia di obbligo. Dall'altra Zaia, paladino dei vaccini, che da quelle stesse persone è stato minacciato più volte, l'ultima, raccontata dallo stesso presidente, ha visto coinvolto un militare. Mi ha scritto che se mi avesse incontrato mi avrebbe sparato in bocca. A me non interessa rovinare la gente, e quindi ho chiesto che facesse volontariato. Due personalità che si stanno allontanando sempre di più in termini di principi etici e morali. Due uomini importanti all'interno di un partito che sta attraversando una fase di modifiche importanti e che sta scegliendo cosa vuole fare da grande, se continuare con un capitano bellicoso o con uno coraggioso. Appuntamento a domenica a Cittadella, dove comunque Salvini e Zaia probabilmente continueranno a bluffare. Grazie per la visione!